Qualcosa di unico quello che è successo stasera, sicuramente è l'inizio di tante progettualità per lo sport dentro l'arena. Abbiamo visto che davvero si esalta lo sport, si esalta il monumento, il pubblico partecipa ancora più emozionato a quello che sta accadendo all'interno di questo anfiteatro e credo che possa essere davvero l'inizio di un nuovo percorso di utilizzo di questo anfiteatro, di esaltazione della nostra città. Oggi erano tanti i paesi collegati e credo che si sia visto e si sia potuto celebrare davvero qualcosa di unico. L'obiettivo nostro ovviamente deve essere quello di alzare sempre più l'asticella, di rendere lo spettacolo all'interno di livello internazionale. Non possiamo porci dei limiti e soprattutto dobbiamo ambire ad avere l'eccellenza di qualsiasi sport.